Carmine De Falco, candidato piacentino del Movimento 5 Stelle, qui il partito guidato da Conte ha ottenuto l'8,2% alla Camera e il 9,3% al Senato. Un risultato insufficiente per il suo ingresso in Parlamento? Notte insonne o è comunque soddisfatto? Molto, molto, molto soddisfatto. È stato per noi un risultato inaspettato. Tutti ci davano per morti, tutti ci davano al di sotto della doppia cifra, invece abbiamo dimostrato che il Movimento 5 Stelle è vivo, è vegeto ed è presente a livello nazionale. Tutti dicevano che era un partito del sud, ma abbiamo dimostrato che la doppia cifra l'abbiamo raggiunta anche a nord, Piacenza no, ma ci siamo vicini anche a Piacenza. Ci davano quasi per estinti, invece con l'impegno di tutti abbiamo ottenuto questo buon risultato. Il reddito di cittadinanza al nord non attecchisce come al sud, è così? Guardi, il reddito di cittadinanza è una misura che vale sia al sud che al nord. Mi sembra che anche a Piacenza ci sono 1.800 famiglie circa che prendono il reddito di cittadinanza. Le nostre misure sono per il nord e per il sud, pensiamo, le dico solo un esempio, super bonus, chi ne ha soffritto maggiormente è stato il Veneto, non è stato il sud. Il Movimento 5 Stelle deve ripartire, secondo lei, da un percorso comune con il PD? In questo momento no, non ci sono le premesse. E conclusa la campagna elettorale, De Falco si prepara a partire per la costa d'Avorio, domani salirà su un aereo diretto in Africa, dove gestisce una società agricola.